guardate che marea gialla guardate guardate partenza per la tappa si partenza per la tappa di Torrita di Berina Tourbike 2015 ecco la partenza il Faina grande partenza partenza 2 a 3 vai vai forza vai vai Carlo Ale Filippe vai ecco la partenza degli a1 ecco lì c'è pure il Faina oggi vai Faina vai Gianni a lei Andrea vai vai Mauro vai vai Castagna vai vai Angelo e 2 e 1 partenza e 2 e 1 qui vai tu torni Marco ok ok ciao vai ci siamo io ci metto un ricorsivo di Ghezzo eh parto pure io eh non fa niente ecco lì grande vai Carlo ecco chi è grande vai bravi cecchettini eh perché no Stefano Miconi grande scatenato pro di guerrieri arrivati a Fara no a Fara a Torrida laggiù qui facciamo rinforzini e poi facciamo 150 km rinforzini siamo pronti per rinforzini eh la montanella una volta la la facciamo 150 km a Torrida lui dice